ciao a tutti ragazzi e benvenuti con un nuovo gameplay di range allora come quindi non sono andato avanti per conto mio ragazzi perché ho visto che subito dopo che ho finito con il gameplay scompariva il fantasma quindi da adesso cioè dal 1990 dal 1906 fino a quando incontreremo il diavolo cioè nel 1998 andrò avanti penso soltanto assieme a voi magari tagliando un po qui ci abbiamo il fantasma poi non ho visto niente cosa mi dice il diavolo sta arrivando per la sua ultima volta rivela per la sua ultima volta questo secolo è la nostra chance io dico di sì è la nostra chance lo spirito lentamente scompare porca troia potete dirmi qualcosa di più dato che ho fatto una registrazione solo per te posso insegnarti un po di cose su una magia sulla mancia bianca io dico lì sì così vedete cosa come funziona ma prima di tutto dovrei però prima tu devi devi dimostrarmi qualcosa adesso lei si ok guardate pronuncia la parola sacra scando in the eastern fashion swan non lo so io dico quest'altra che succede che ci casino un po ben fatto ora cosa ti piacerà imparare non lo so un modo ok si sono messo a caso in ogni caso ce l'ha già chiesto troppo tempo fa un modo poter trovare l'amore io gli dico di sì che non l'ho mai fatto ora devi fare una scelta quale scelta sorella delphine 28 like no no te lo scordi miss agona dicendo ah è l'età beh io dico di sì perché sta qua fa sempre l'amante diciamo ah è infatti cosa ho detto io ok perfetto tu e miss agona che c'è tu un l'altro ok bene ah va bene ci abbiamo l'effetto stronza ragazzi ma dura soltanto finché non moriamo quindi non è fastidioso ed è anche utile perché la popolazione è bloccata al massimo la nostra bellissima capitale sa di spazzatura dovremo costruire un nuovo impianto fottiti il fiume è bloccato ancora dobbiamo costruire bisogno di aiuto della chiesa e dell'esercito basta siamo già morti ragazzi un uccello guarda dalla finestra dice eserci questo messaggio va a essere importante lasci e mandare si va pure oddio mi sono salvato non ha credito come diceva i vichinghi ci stanno attaccando dovremmo difendere il nostro regno dal nord io dico attacchiamo così la chiesa è felice ok stiamo durando e cioè di incontrarti con alcuni io non gli dico di no così la chiesa è posto bene il regno del sud dice che tu abbia rapito la sua principessa sì che tu sposi la sua principessa dovremmo creare un museo della scienza gli dico di no così la chiesa è felice mio amore mi piacerebbe organizzare un tour noi sopra il mio cadavere io gli dico di no perché lui odia la chiesa eh no invece è stato il contrario vabbè voglio visitare i nostri vicini senza dio a meno che tu non abbia bisogno di me qui io gli dico di no così siamo tutti più felici hai fatto un errore ok ragazzi sono sono tornate guardate che partite che sta venendo fuori tutto al massimo una bella compagnia dei soldati appena appena saccheggiata la nostra pazia vogliamo giustizia io gli dico di sì perché l'esercito troppo alto ho paura che fuori ora la chiesa troppo alta ma va bene non dettagli il messaggio dice e gli i tipi che abitano nelle isole ci stanno minacciando dovremmo attaccarli prima che loro attacchino noi io gli dico di no se no mi va troppo giù l'esercito la tua fortezza è troppo debole dovremmo costruire una nuova torre io gli dico di sì che tanto soldi ne abbiamo paletta dovremmo sbanizzare una ah come dire più guardi di notte io gli dico di no tutte le nostre catapulte sono state sabotate trovate i traditori dio ci proteggerà io gli dico trovate i traditori così facendo è un po' meglio no? un mercante straniero sta venendo nuovi oggetti per coltivazione dovremmo compiare dovremmo capiare le sue robe io gli dico di no così i soldi vanno su ok se faccio un errore ora il mercante ha iniziato a chiedere di incontrarti io gli dico sì vabbè fatti vedere ed è sta qua principessa a camaria sono sorpreso di incontrare una donna una donna dell'affari nella mia città le donne non sono inutili vesteacce come nella vostra corte che sono tutte quante inutili solo cortigiane benvenuta oppure no per favore vattene via la nostra bandiera dovrebbe essere cambiata è veramente brutta nope ci piacerebbe costruire una scuola nella capitale per l'insegnamento delle persone io gli dico di no che la chiesa è troppo alta non vorrei che sfuori il nostro esercito è forte e noi stiamo vincendo la guerra dovremmo forzare un trattato di pace io gli dico di sì così sono tutti più felici bene Rex mi invita a seguirlo vediamo se mi porta no nel dungeon gli dico di no perché se no mi perdo e muoio mi porta nella foresta e ora vado ormai sono tutto a memoria in questo gioco ragazzi perfetto basta ciò mi aiuta moltissimo perché vedo bene le statistiche di come sono preso mentre facevo le mie ricerche per poter disegnare per trovare un bel modo di distillare un nuovo modo per distillare alcol piacerebbe vabbè gli piacerebbe dividere con noi il guadagno io gli dico di la chiesa può farsi fottere io gli dico di sì perché vedo che ci dà tanti soldi bene guardate che roba penso che noi dovremmo attaccare il regno dell'ovest una bellissima guerra a scopo pubblicità io gli dico di no perché la guerra non si fa le mie ricerche non stanno funzionando devo continuare gli dico di sì perché sono buone o so di da buttare la nostra economia sta super 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 al massimo grazie al nostro trattato commerciale dovremmo creare una banca centrale oh per l'amor di dio io gli dico di sì non so la chiesa oh ma io ho avuto questo effetto money 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 la banca centrale ti protegge dalla banca rotta dovresti creare dovresti creare più soldi quando non hai bisogno genio ok praticamente ci dice che sta roba qui ci salva dalla banca rotta tuttavia abbiamo i soldi al massimo e quindi ci dice dovresti fare i soldi quando non hai bisogno non quando non hai già tanti genio vado a farmi una passeggiata ti piace da venire con me e sono occupato non ho voglia di effetti perché se vado con lei ottengo degli effetti diciamo ragazzi che la chiesa va giù però tuttavia il popolo è bloccato al massimo però tuttavia questa roba qua non mi interessa non ho voglia abbiamo scoperto uno scorpo un corpo perduto nel dungeon non in un dungeon dovremmo rinforzare la guarnigione io gli dico di sì che è gratis qua no quello lì è la spia ci dice robe a caso c'è stata un'evasione di massa da prigione abbiamo bisogno di organizzare un party di ricerca andate andate catturate criminali dovremmo fare una dovresti fare un affare con Lady Selwig praticamente dice esci con Lady Selwig io dico di sì sperando che il popolo ne sia contento e vai un signore quanto da quanto è che non ci baciamo da tanto posso fare tutto mio lord quanto è che non ci baciamo posso fare qualsiasi cosa io gli dico di no siamo messi bene non voglio che magari non suori col popolo c'è stata un'esplosione nella capitale non sappiamo cosa è successo dovremmo chiudere le gabbie i cancelli della città maredizione da dislessia un regalo per te nella mia mano destra gli dico destra così facendo la chiesa va giù e ci porta questa croce dorata e noi ora possiamo ridargliela alla chiesa così li perdiamo i soldi che abbiamo preso ma la chiesa guadagna 5 punti cd ormai so tutto di questo gioco grazie per il tuo ospitalità caro sire spero che non ti dia fastidio se resta un po' qui tu sembri piacere alla regina non devo ora la chiesa è troppo bassa è la felicità del tuo popolo un obiettivo un obiettivo importante sta qua non so se ve lo ho già aspettato è un oggetto magico che ci parla con dentro questo è un vaso con dentro questo omuncolo essiccato praticamente e ci parla io gli dico dipende così facendo dovrebbe andare su tutto il resto benissimo abbiamo scoperto un altro corpo nel dungeon la gente sta cominciando a essere nervosa e chiedevi di avere più sicurezza io gli dico di sì non dovrei sforare devo fare un calcolo no andiamo vicino allo sforamento ma sì dai ok siamo messi benissimo con l'esercito vedo un centinaio di barche piene di uomini alti perfetto chiamo il generale così lui ci dice oh mio dio quanto vai giù non pensavo ad essere giù così tanto vabbè quali sono i valori di un buon re miei oppure overrated io dico overrated perché dovrebbe andarmi sulla chiesa sto cazzo non sapevo che significava 35 anni al potere veramente una roba fantastica la regina è morta mio lord dovremo abbiamo trovato lei nel dungeon cazzo è sto la regina è morta mio signore l'abbiamo trovata morta nel dungeon non ci abbiamo i dungeon diciamo di casa ci abbiamo un dungeon dentro al fottuto castello possiamo dirgli abbiamo bisogno di più sicurezza oppure no io direi che abbiamo bisogno di più sicurezza ragazzi abbiamo bisogno di costruire una nuova chiesa io gli dico di sì sì tra poco potrei anche tassare i cittadini penso mi darà l'opzione i vichinghi ci stanno attaccando dovremmo difendere la stragna del nord ora pochi soldi però io gli dico no difendiamo difendiamo se no i soldi vanno troppo giù lunga vita il re hai 50 anni oggi sì lo so grazie non me lo ricordare gli dico lo sai uno scorpione lo sai chi è lo scorpione che sta mordendo il tuo di dietro vuoi saperne di più no non posso promettermi altri soldi hai bisogno di qualche presto me lo ordeno perché se no lui arriva dopo e mi richiede e mi chiede il doppio dei soldi io non posso farlo voglio fare un ritratto ah se lui ci vuole fare un tatuaggio gli dico di no non ho soldi ah perfetto i minatori vogliono un aumento fottetevi fottetevi lavorato bisogno di soldi il fiume si è come si chiama vabbè il fiume è pericoloso ci dicono costruire una diga io gli dico di no ah perfetto perfetto no si 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 abbiamo distrutto l'esercito invasore il loot è stato eccellente bravissimo no l'esercito al massimo ha perso c'è stata un'altra esplosione questa volta nel distritto dei mercanti dovremmo rinforzare la sicurezza no oh mio dio quanto mi sono salvato ragazzi quanto mi sono salvato avevo l'esercito al massimo arrivava il generale a dirci il generale riteneva troppo potere ci diceva arrenditi a me e ci richiudono una torre e ci fa morire un'esplosione nelle miniere ha ucciso almeno un centinaio di persone dovremmo continuare a scavare eh no l'economia ne risente troppo continuate a scavare cazzo quanto ne risente il popolo però c'è una crisi nella tua chiesa abbiamo bisogno di riformare la nostra religione wow non così veloce calmo papa calmo non dirmelo io vedo un nobile pieno di soldi ma povero d'insapore vi parla a una figura a una figura mascherata non so il senatore continua questo sarà 600 pezzi d'oro poi non continua quindi gli dico tu sei un ciarlatano e la chiesa è felice le miniere sono piene di oro mio lord dividiamocelo vai così 1.978 sono quasi il massimo fai così che forse ragazzi riesco a portarvi anche un gameplay dove incontro il diavolo subito sul colpo dovremo attaccare il regno del sud stanno crescendo più velocemente ogni giorno nope 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 non posso fare nulla perché ho paura che l'esercito sfori e mi sputtani tutto un terremoto ha distrutto una grande parte della capitale la guardia cittadina aspetta ordini oddio mio che roba no eh se io dico prevenite oh mio dio se faccio così il popolo va a zero quindi siamo fottuti io dico salvate le vittime ma così facendo i soldi guardate quando scendono madonna ragazzi signore la tua urina sa di è un fungo penso questa mattina dovresti evitare di cavalcare per un po' io dico di sì che l'esercito è troppo alto ho paura che sfori le nostre catapulte sono state sabotate trovate i traditori mio signore sembra che il tuo esercito sia una generale veramente molto povera dovremmo spendere un po' su questo problema e con quali soldi con quelli che non ho la gita dei mercanti sta venendo bene che tradizionalmente apparteneva alla bazzia poni fine a tutto questo no mi vanno giù i soldi non posso farlo un gruppo di villagiani pretende che ok ragazzi sapete che ho paura che sfori con la registrazione vabbè vado avanti un gruppo di villagiani pretende che loro siano stati assaltati a vabbè praticamente è un trucco per non pagare le tasse io dico si è un trucco per non pagare le tasse io sono Ademar di Sherwood io penso che ho trovato una nuova rotta commerciale con il cazzo che mi frega non posso farlo perché sennò oddio mio non posso finanziare le spedizioni sennò perdo eh ora siamo in crisi però generale Bromington è un offende il nostro generale io gli dico non importa così facendo la più felice mi piacerebbe condire una codura una messa in onore di tuo padre no non lo odiavate mio padre che l'avete torturato a morte bastardi so che sei totalmente ignorante il fatto dell'economia ma ti piacerebbe fare un discorso eh sì perché mi mi manta sul popolo la tua gente sta morendo di fame mio lord il prezzo del pane è troppo alto non posso fare niente sennò sforo e muoio il messaggio dice un piccolo villaggio nell'est dei valloni dell'est ha creato un golem sapete che faccio ragazzi faccio apposta a perdere ora così facendo così facendo dovrei essere perché ora sono messo troppo a puttane dio solo sa cosa mi fa fare il diavolo ah no ok possiamo morire qua ragazzi eccellente ti svegli nel mezzo della notte e senti gli anni e senti gli anni passati sulla tua schiena sei vecchio e stanco resta sveglio torna torna a dormire io dico torna a dormire che non so che succede era il mio obiettivo no ma io devo morire adesso noi non capiamo un cazzo perché siamo rincoglioniti devo mandare a zero il popolo bene ok 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 bene sono riuscito a fare ciò che volevo quindi ormai eravamo vecchi praticamente se andavo avanti a regnare io mi trovavo il diavolo che avevo questo piccolo handicap perché ero vecchio vedete anche qua tu non sei in grado di sentire o capire bene tutto quello che ti viene detto e siccome ti sei spaventato hai nascosto questo problema c'è il che di nascondere il problema della corte noi leggevamo i dialoghi tipo con le lettere invertite come se io dicessi robe a caso praticamente non non so fare un esempio posto di letto leggevo posto di bed tipo leggevo bad era tutto incasinato io non parlo cioè già l'inglese non è la mia prima lingua contando di notare che è tutto che già l'inglese è un po' difficile qua perché non è la mia prima lingua poi contando che mi sputtana tutto quanto era veramente molto difficile capire anche se ormai sapevo a memoria più o meno cosa succedeva in ogni caso tra 5 anni incontriamo il diavolo questo gameplay finisce qua ragazzi la fine è anche andata bene perché il castello è stato rinsaccato cioè circondato dal popolo in rivolta l'altra corte si è dispersa e si è rimasto da solo a governare con il tuo uccello bruttissima ed è anche una bella fine contando che di solito si muore di morte e violenta siamo ancora vivi e ci abbiamo l'uccellino a farci compagnia quindi ragazzi questa partita qui è andata benissimo l'ho fatta apposta morire e quindi il gameplay finisce qua nel prossimo gameplay incontreremo il diavolo ciao a tutti ragazzi ci si vede ciao a tutti